Io sono buona, mi ha aperto uno spazio enorme, è stata potentissima, non ho capito niente se non quella frase lì è arrivata potentissima, mi sento ancora vibrare tutto il petto proprio, ma è stata di una potenza, proprio quella lì, ma è come se fosse stata una chiave che ha fatto clac. Quello per me è stato bellissimo, mi sento proprio ancora tutto aperto, è come se fosse aperta una finestra, una porta, un portale, stupendo, veramente molto bello, grazie mille.